vediamoci questi due qua che sono i due ah cazzo chiuso la pagina che babbo che sono i due trailer che più stavo aspettando di questa live che più stavo aspettando non so quale possa essere più brutto tra i due cioè se Sharkula o Emityville in Space vabbè proviamo con Emityville in Space ragazzi speriamo che siano trailer esaustivi cioè che che abbiano un senso se no li abbiamo aspettati per nulla Emityville in Space che effettone che effettone ragazzi questo è il più grosso black hole che ho mai visto abbiamo mai avuto qualcosa di così in Space C'è qualcosa di più sinistere a playa qui. Vi. Armi. Mamma, mamma. I've got a bad feeling about this. It's already beginning again. The war between good and evil continues. We need to nuke that black hole. Our house must be destroyed. Mamma, mamma. E' veramente orrido. E' veramente orrido. Non ci posso credere. Non me l'aspettavo così brutto. Me l'aspettavo brutto. Ma non me l'aspettavo così brutto, ragazzi. Cazzo, ora tocca a Sharkula. Sharkula. Vediamo se Sharkula ci regala delle emozioni più forti. Secondo me sono della stessa prodotta. Infatti, sono sempre Wild Eye. Wild Eye, se non sbaglio, sono quelli che avevano fatto scusate, o avevano fatto veloci pastor. Vediamo Sharkula. Sharkula. Ehi, ti amo questo. C'è qualcosa di vero che sta succedendo. Il tuo amico è un po' a scatti. Devo chiudere un attimo qualche finestra, perché ogni tanto c'ho questo momento di difficoltà. E' un po' a scatti, ma semplice. C'è pure la canzone semplice. F***, non so quale più urto di lui. usede parte, perché gli altri hanno la sua ricezione. E' un po' a scatti, voi sòusa l'ult reprovo. C'è un po' a scatti. E' girato in una cantina Ma è terribile Non so, forse questo è peggio No, forse è peggio Di MTV Linde Space Madonna, ma uno più brutto Dell'altro, raga, veramente Non ho mai visto una cosa così Mamma mia, ragazzi, che orrore Che orrore, che orrore No, io non credo che riuscirò a guardare Sti film, sono troppo brutti Sono troppo brutti